Ciao! Il mio nome è Calimero e mi piacerebbe parlare di un prodotto incredibile che ho scoperto di recente e che potrebbe essere la soluzione per molte persone che soffrono di psoriasi. Questo prodotto è Psoriaderm, una crema dermatologica che aiuta a alleviare i sintomi della psoriasi, compresa la rossore, prurito ed esquamazione della pelle. Ciò che amo di più di questo prodotto è che contiene ingredienti naturali ed efficaci, come olio di rosa mosquita, aloe vera, olio di mandorle dolci e vitamina E, noti per le loro proprietà lenitive e idratanti. Psoriaderm non è solo una crema idratante qualsiasi, è stato specificamente sviluppato per trattare la psoriasi e fornire sollievo dai sintomi spiacevoli. Inoltre, è facile da applicare e viene assorbito rapidamente dalla pelle, senza lasciare residui appiccicosi o oleosi. So quanto sia difficile convivere con i sintomi della psoriasi e voglio aiutare le persone a trovare una soluzione. Ecco perché raccomando fortemente Psoriaderm. Se stai cercando una crema che possa fare la differenza nella tua qualità della vita, questo è il prodotto giusto per te. Non perdere altro tempo a soffrire di psoriasi. Clicca sul link qui sotto per acquistare Psoriaderm adesso e inizia a sentire un immediato sollievo. Ricorda che, acquistando attraverso il mio link di affiliazione, mi aiuterai a continuare a fornire contenuti preziosi come questo. Quindi, non perdere questa opportunità e prova Psoriaderm oggi stesso.